Buongiorno a tutti, sono qui a Torino a questo Abit of History per parlare di un evento di cui oggi festeggiamo il settantesimo anniversario, cioè la nascita di quel piccolo oggetto elettronico che si chiama transistor, di cui non ci occupiamo più, non vediamo neanche più che esiste, ma senza il quale non ci sarebbe tutta la tecnologia digitale di oggi, quindi non ci sarebbero i computer, i telefoni cellulari, non ci sarebbero i controllori che fanno funzionare e controllano il motore della nostra auto, fino al motore dell'aereo, fino alle navette spaziali per i viaggi. Perché mi occupo di queste cose? Io ormai ho una certa età, mi occupo da tanti anni di storia della tecnologia in genere e della storia della tecnologia per il calcolo automatico e l'elaborazione dei dati più in particolare. Per fare questo ho letto tantissime cose, è una biblioteca molto grande che mi permette di sapere che cosa è successo del passato, come sono nate le idee, chi le ha proposte per la prima volta, per quale motivo le ha proposte e soprattutto perché certe idee furono accettate e divennero dei grandi successi e perché altre furono rifiutate. Su quest'argomento ho scritto dei libri, di cui il più recente andrà in commercio fra pochi giorni, che si tratta proprio del racconto del futuro, il racconto del computer, e che racconta tutta questa storia a partire dagli antichi sumeri, con le loro tavolette di argilla ricoperti di strani segni, per arrivare alle ultime innovazioni in campo informatico. Ho scritto anche cose che riguardano eventi particolari, come quelle della seconda guerra mondiale, della famosa violazione della macchina criptografica Enigma, che usavano i tedeschi per proteggere i loro messaggi, della storia di Turing e di tante altre macchine usate da altre nazioni, fra cui anche l'Italia, cosa di cui poca gente sa. Ho scritto di Charles Babbage e Ada Lovelace, che sono gli inventori del primo oggetto che può essere oggi chiamato un vero computer, anche se era meccanico, veniva mosso dal vapore ed era enormemente grande. E non si sa se avrebbe mai potuto essere costruito. Che cosa sono gli altri miei progetti? Perché mi piace molto occuparmi di questo settore. Io faccio anche parte del gruppo di lavoro Storia dell'informatica dell'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, che sta facendo delle attività sia per recuperare la storia dell'informatica in Italia, di cui si sa poco, si conosce quasi nulla e viene spesso dimenticata, sia per parlare di tutti i musei che in Italia raccolgono decine di migliaia, anche qualche volta solo centinaia, ma comunque di oggetti informatici del passato, vecchi computer, vecchi stampanti e così via, che ci permettono di ricordare come le cose non risalgano soltanto agli ultimi dieci anni, come spesso si crede dalla nascita dello smartphone, ma risalgano molto prima, alcune decine di anni. Per la realtà, direi, a 80 anni fa, grosso modo. Io penso che l'imparare la storia degli oggetti tecnologici, soprattutto dell'informatica, si abbia un valore notevolmente importante dal punto di vista dell'educazione. Un vecchio storico della scienza, della tecnologia, che si chiamava Jaymonat, scriveva già nel suo grosso libro Storia del pensiero scientifico una frase in cui diceva oggi si inventano, si scoprono tante cose, ma ben raramente ci si occupa di ciò che è avvenuto prima. E credo che questo sia un invito per cui tutti noi dovremmo sapere almeno qualche cosa di che cosa è venuto prima del mondo in cui viviamo oggi. Grazie a tutti.